Molte a raffica questa mattina a Villa Gioia mentre era in corso il Consiglio Comunale dell'Aquila. Il problema dei parcheggi che dovrebbero servire il Palazzo di Giustizia sta diventando sempre più pesante. Le macchine infatti arrivano ad occupare sia lo spazio antistante Villa Gioia dove un tempo c'era la scuola Mazzini che il cortile stesso della sede comunale. Alcune sui posti riservati ed istabili addirittura, altre con parcheggi selvaggi sui marciapiedi. Fatto sta che tra Tribunale e Consiglio Comunale stamattina c'era il caos. I vigili della Polizia Municipale dell'Aquila hanno deciso di adottare la linea dura elevando diverse contravvenzioni agli automobilisti più indisciplinati. I lavori per i parcheggi al Tribunale sono in corso ma la problematica davvero sta diventando ingestibile.